Continuiamo sulle tematiche della politica nazionale con le dichiarazioni del senatore leghista Roberto Calderoli. La scelta di nominare altri quattro senatori a vita è fuori luogo oltre che anacronistica visto che tutti auspicano un senato federale delle regioni con un numero ridotto di senatori espressi col voto dei territori. L'articolo 59 al secondo comma deve essere abolito così come avevamo già previsto nella riforma costituzionale del 2005. Questo ha dichiarato Roberto Calderoli che ha continuato. Qualcuno diceva che a pensare male si fa peccato ma qualche volta ci si indovina. Non vorrei mai che queste nomine possano assumere l'importanza che i senatori a vita ebbero nel sostegno al governo Prodi. Facendo due calcoli, osserva ancora Calderoli, vedo nel nostro futuro con questa scelta un letta bis con una rinnovata maggioranza. Chi decide le sorti del paese votando leggi deve essere eletto e non nominato. Sullo stesso argomento è intervenuto il segretario della Lega Lombarda, vice segretario federale della Lega Nord, con tutto il rispetto per le persone. La nomina di quattro nuovi senatori a vita è una presa in giro per gli italiani. Dobbiamo tagliare, sudare, faticare e risparmiare. Napolitano ha la bella idea di inventarsi altri quattro stipendi a vita. A scriverlo su Facebook è Matteo Salvini che invita che gli paghi il capo dello Stato, questi nuovi senatori. Salvini aggiunge un post scrittum con una proposta. Non sarebbe ora di abolire la carica di senatore a vita, si chiede Salvini.